dell'ente eletto in questi ultimi mesi come una delle immagini del male della crisi. Nel 2011 in Emilia Romagna il 37,5% dei rapporti a tempo determinato ha coinvolto persone che ne avevano già avuti, dello stesso tipo, durante l'anno. Secondo il sindacato si tratta di un abuso esplicito. Vediamo il servizio di Alessio Bertini. La CISL punta l'indice contro la precarietà. Troppi in Emilia Romagna i contratti a termine che si ripetono uno su tre nel 2011. A preoccupare il sindacato l'elevato tasso di disoccupazione giovanile che colpisce soprattutto le donne. Abbiamo una disoccupazione giovanile, come sapete, al 22%, con picchi del 34-35% a Follicesena, del 26% a Ravenna, quindi in territori particolarmente difficili. Abbiamo una disoccupazione femminile, in particolare tra i giovani, che è mediamente superiore del 2% a quella maschile e abbiamo un mercato del lavoro che non è gestito in maniera efficace. I numeri si riferiscono al dossier sul mercato del lavoro in Emilia Romagna, elaborato dalla CISL. Le soluzioni per la sigla confederale esistono già e fanno riferimento al sostegno economico all'apprendistato. Un invito poi alla creazione di un'unica agenzia regionale per il collocamento. L'apprendistato è e rimane la forma di assunzione più stabile e quindi più di prospettiva. Abbiamo i tre anni precedenti e abbiamo bisogno anche per il prossimo triennio. Dall'altra parte, un'agenzia di coordinamento sul collocamento rappresenterebbe sul piano regionale un elemento con presidi territoriali, un elemento di maggiore efficacia in un nuovo rapporto tra pubblico e privato. La CISL plaude quindi al patto per la crescita rinnovato di recente dalla regione Emilia Romagna per il 2012, ma chiede uno sforzo maggiore. Noi diciamo che quel piano va raddoppiato, nel senso che i 20 milioni che oggi sono presenti per il 2012, per le aziende che non hanno licenziato e stanno assumendo nel 2012, devono rappresentare la base di partenza che va consolidata anche per il prossimo triennio. Sfileranno tutti insieme sotto le due tori.